e ti saluto con la pace del signore buongiorno e buona domenica con gesù oggi appunto domenica 14 luglio 2024 dio ti benedica immensamente e che la sua grazia il suo amore le sue consolazioni possono coprirti oggi e sempre alleluia vogliamo ascoltare la parola del signore che questa mattina viene rivolta ai nostri cuori in questi termini credete nel signore vostro dio e sarete al sicuro testo che troviamo nel secondo libro delle cronache capitolo 20 versetto 20 ed ancora ori il dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede testo che troviamo nella lettera ai romani capitolo 15 versetto 13 il titolo di questo messaggio è questo il credo credo in un solo dio padre onnipotente il credo detto anche simbolo degli apostoli è una confessione di fede cristiana dall'origine incerta ma comunque molto antica è composto di 12 punti ma noi considereremo soltanto le se dichiarazioni generali sulla fede cristiana inizia con l'affermazione della fede in dio credo in un solo dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra credere in dio non è il risultato di deduzioni logiche non è neppure un modo per attribuire i problemi del mondo a una forza superiore in parte mistica per magari scaricarsi delle proprie responsabilità credere in dio è uno dei due modi di avere la fede o si crede che dio esista o si crede che non esista come qualcuno ha detto occorre molta fede per essere atei e tu caro ascoltatore che tipo di fede hai personalmente credo che il mondo sarebbe una cosa assurda senza l'opera di dio accettare che il nulla fisico e metafisico abbia potuto produrre una scintilla di esistenza mi lascia senza parole e richiederebbe una fede ancora più grande che credere al creatore poiché ogni effetto ha necessariamente la sua causa preferisco ammettere di essere stato creato da qualcuno fuori dal comune al di sopra delle leggi esistente da ogni eternità che così ha voluto qualcuno che è necessariamente inspiegabile e si chiama dio questo illumina la mia mente ma dà anche un significato alla mia vita e così dio mi parla riflettiamo su quanto abbiamo appena ascoltato e meditiamoci dio ci benedica benedica